giornata inaugurale dal salone del libro giornata dedicata a un tema in realtà questa prima giornata che sono le illustrazioni sono il mondo dell'animazione il mondo delle storie e qua ovviamente uno passeggia per il salone cosa fa incontra scrittori incontra ospiti che con cui ha il piacere di chiacchierare sono venute a presentare ti presento Torino e dove se non nello stand di Camera di Commercio Future Channel poterlo presentare eccolo eccolo qui Pacini Edizioni che ha già una tradizione di ti presento in giro per l'Italia e qui con noi Silvia Sardi buona giornata che ha curato i testi e Sara Franci che invece ha curato le illustrazioni ora io lascio subito il microfono a Silvia raccontaci qualche cosa di questa collana e di questo ti presento Torino allora è stata un'esperienza veramente bellissima la collana racconta Torino con una chiave non perfettamente storica vuole raccontare un po' le persone del passato della città che animo hanno cosa mangiano con chi parlano come festeggiano e quindi ci sono tantissime curiosità che speriamo possono interessare ai ragazzi e ai giovani per fargli rivedere i posti della città che frequentano e chiamare i bambini delle altre città a conoscere la nostra città allora la domanda è qual è l'aria che si respira Torino dovessimo definirla con due o tre parole Torino è? No a lei farò un'altra domanda lei farò un'altra domanda Torino è? sicuramente quadrata perché è un animo quadrato retto composto ci si diverte senza esagerare e c'è appunto una sorta di rettitudine che corrisponde anche alla storia a nostro avviso poi Sara a Sara chiederò i colori mi viene in mente da quello che dice una frase di Laura Curino una cara amica che diceva che mentre i piatti tipici in giro per l'Italia sono sempre piatti colorati no? Fastosi il piatto tipico di Torino è il bollito cioè marrone no? Eh quindi una cosa retta quadrata a modo si potrebbe dire allora eh Sara quali sono i colori e le linee della città di Torino? Il blu ma tutti perché veramente Torino è magica io sono di Firenze però quando vengo qua è amore è stato amore a prima vista e è un onore per me aver fatto diciamo essermi immedesimata in queste storie perché poi la storia è un insieme di storie di persone e aver cercato di portare di rappresentare per i bambini per i ragazzi ma anche per gli adulti queste storie un passaggio un passaggio tra due capitali no? Torino e Firenze che sono due città che hanno anche nell'animo qualche cosa in comune l'essere un po' ritrose a volte ma io confermo io ho vissuto a Firenze 13 anni e come sono tra virgolette chiusi i fiorentini lo sono anche i torinesi perché comunque noi ci teniamo a farci fatti nostri a stare nei nostri salotti come i fiorentini poi una volta che si apre quella porta è una meraviglia si apre un mondo infatti per me è stato così io ho trovato un'apertura comunque enorme e sono molto molto felice questa collana di Pacini a me personalmente ha permesso di ricominciare a studiare la storia perché mi sono riappassionata sia attraverso proprio uno studio più maturo ma anche più empatico proprio meno basato sui fatti e più sulle persone quindi penso che piacerà dovessimo nel salutarvi poi augurarvi un buon salone dovessimo raccontare con una piccola storia un episodio, una curiosità piuttosto che con un'illustrazione un quadro che secondo voi è tipico totemico della città di Torino quale sarebbe la storia e quale sarebbe l'illustrazione? beh scegliamo la regina influencer noi abbiamo citato la regina Margherita che è stata un influencer antetempo mentre faceva la pizza faceva anche l'influencer mangiava la pizza, quando viaggiava studiava i vestiti delle donne dove andava a trovare per cui era molto appunto come diceva Sara empatica molto presente e molto vicina alla gente che al tempo non si sa ma è una cosa straordinaria per cui un animo viaggiatore, un animo curioso, un animo umile che è quello che forse vogliamo anche dire delle donne di Torino sì e poi la chiave è proprio l'essere vicini alla gente cioè la storia, ora con questa collana appunto stiamo andando a fare laboratori in varie città con i bambini in varie classi e questa è la chiave secondo me per ristudiare la storia avvicinarsi alle persone e alle loro storie allora, Silvia, Sara, grazie, eccola qua ti presento Torino per Pacini Editore un buon salone a tutti voi rimanete in collegamento cari telespettatori perché le storie del salone non finiscono anzi, sono appena iniziate